E' vero si ragazzi e ragazzi e ben ritrovati qua con video e slash ragazzi Oggi siamo qua con un nuovo video e siamo qua con Mv3 Ragazzi adesso un attimo devo fare questa partita e poi devo spiegarvi una cosa veramente simpaticissima E veramente molto bella per Mie Perché? Adesso vi spiego Cominciamo a fare un paio di kill Dove non è stato killato in maniera più brutale Boom bitch Abbiamo fatto una kill Tanto tipo non so come non sono fatto a morire Ma va bene Intanto qua abbiamo Dei, devo dire, friends molto scarsi Della verità perché ci stanno strachillando ogni volta Ha ceccato da solo What the fuck E... vabbè Comunque ragazzi adesso andiamo avanti E intanto... ok mi sa che avevo messo tipo l'audio un pochino più basso Comunque ragazzi Ehm... vi ricordo sempre di mettere quel kill like per proseguire questa serie E ragazzi avrò bisogno anche del vostro aiuto per delle classi perché io le classi non le so fare Inteso Ehm... fanno cagare Dai Grazie zio Eccolo Bastardo camperone schifoso Boh non è che io faccio il meglio del meglio Però qualcosa in più la faccio Intanto qua ho visto che ce n'era uno da qualche parte Eccoli qua dietro stanno Mulan non passare Vai Ed eccoli là Bum bum Mamma mia che salvataggio ragazzi Che salvataggio epico Ok ragazzi scusate devo fare Questa cosa qua Ok Corri Dove stanno? Ricarica Grande Bravo Ricarica Ehm... what the fuck Where is the guys? Dai Boom bitch Tac West... eh... andiamo il wav Devo camperare ragazzi perché Devo comunque migliorarmi queste armi E come volete sapere io sono Molto noob in mv3 E quindi devo arrangiarmi Quindi Cerchiamo di fare un gioco tattico No qua non ci sta nessuno Adesso intanto sono sicuro al 100% che arrivano da qua Eccolo No ragazzi no 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 Boh Ehm... vai Ragazzi dai facciamo l'altra kill Facciamo... boom Double kill bitch I... I... don't fuck with me bitch Don't fuck with me Don't fuck... non dentro in quella lobby del cacchio ragazzo Ok Intanto qua stiamo facendo il devasto No 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 Dai dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Entra Granata a random Corriamo E... facciamo lo stordente Intanto qua ce n'è uno che sta facendo uno spawn kill forse Boom bitch Dai che... dai ragazzi Sono tipo stra... impegnato Tipo strafogato di giocare Mamma mia... no Cosa cacchio ha fatto? Cosa cacchio ha fatto ragazzi? Cosa cacchio ha fatto? E qua e qua ragazzo E qua e qua Ok uccidilo Buttalo Corri Ok Adesso arrivano... arrivano da qua sotto Arrivano da qua sotto Ecco Non ho neanche visto la mia morte Tipo what the fuck E... Corri Non... non stiamo in due Se no ci killano in due Non è che in uno non ci killano Però... ecco Guardate Che... che... che razzo deve prendere Boom Dopo me deve prendere Boom sti schifosi lezzi Arrivano da qua Arrivano da qua ragazzi Non potete lasciarmi da solo Con sto... Sono un nabbo io Ma dai Schifoso Schifoso Vabbè ragazzi Vabbè E... Diciamo forse che è meglio Un rumore così Dai Ok E... ragazzi Adesso un attimo Usciamo Da Questa Partita E vi faccio vedere Una cosa molto bella Ma abbiamo fatto 17 Buon onesto Onestissimo ragazzi Molto molto onesto E... Adesso vi faccio Vedere questa cosa Molto simpatica Allora ragazzi Non so se avete Seguito la mia serie Di Mv3 Forse si Forse no Non lo so Però Come avete Vedere Sono al prestigio 20 Sono al prestigio 20 Proprio a livello Maxato E ho queste cose qua Che si chiamano Ranked using Boo by Boo E Boo Ragazzi Io sono entrato In questa lobby In maniera molto normale Cioè ho fatto Una piccola Infetto E ho fatto 10 kill Boom Questo è il risultato Poi mi sono messo A informare Questo titolo qua Di Mv3 Si chiamerà Come arrivare Al prestigio 20 In pochi Secondi Ragazzi Vi conviene fare una cosa Una cosa che succede Ogni giorno Ragazzi Non è una cosa che fa Una volta a settimana Una volta al mese Una volta all'anno Ragazzi Voi bastate che andate Quella Playstation 3 Su Mv3 Modalità Infetto Alle 9 di sera 9 di sera In Italia E ragazzi Le persone americane Si sveglieranno Non so perché Com'è il fuso orario E cominceranno Questi server moddati Ce ne stanno 2 o 3 Su 40 Quindi ragazzi Cosa vi consiglio di fare Entrare e uscire Entrare e uscire Fino a quando Non entrerete E troverete Un Un server Con Punti infiniti Ci sarà anche scritto Un banner Tipo Don't leave Server modd Della quale del genere Quindi ragazzi Per quanto riguarda Questa qua Vi conviene Soltanto andare A giocare A la modalità Infetto Alle 9 di sera Comunque ragazzi Cominciamo E andiamo A fare Una partita Infetto Ok ragazzi Siamo finalmente Arrivati Ed è già iniziato WTF Comunque Per chi non Non conoscesse Infetto Dovrete Uccidere Questi Possiamo dire Infetti Che saranno Delle persone Come voi Normale Solo con il coltello E voi invece Dovete uccidere Con L'arma Sembra tanto facile Ma alla fine Se mi vengono 50 infetti Davanti Vi inculeranno A sangue Come questo qua Boom Ok Abbiamo Fatto Un pro Con quest'arma Che è una cosa Molto simpatica Corri Non farti inculare In maniera Semplice Ok Abbiamo fatto anche Gioco di prestigio Ragazzi Non so perché Quando corro L'arma si bugga E mi spara Da solo Boom Bitch Boom Boom No No ragazzi No 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 Vabbè Abbiamo fatto Quello che si deve fare Adesso Doviamo essere noi Gli infetti E doviamo noi Killare E vi faccio vedere Quanto è difficile Killare una persona Con le armi E forse io so dov'è L'infetto Corri Corri No non è qua Che di solito Si nasconda Ragazzi Perché ci sono Due tipologie di giocatori Quelle che stuprano Il culo Agli altri infetti E le persone Che si Possiamo dire Eccolo là Boom Bitch Infettato E Boh Comunque ci sono Quelli che uccidono E quelli che si nascondono E sono di quelli Che va ad uccidere Abbiamo fatto 5-1 Una cosa molto simpatica E ci si vede Tra poco Con la prossima partita Ok ragazzi Siamo Di nuovo Qua Attivi Beh ragazzi Ragazzi Cerchiamo Di fare Erculo Agli Agli Versailles Dato Quella letta Mi manda messaggi Non voglio entrare Nelle tue Cacchio Di server Schifoso Ragazzi No Cioè No Escluso Escluso No E ragazzi Qua C'è la partita Con type 95 E Magnum Come dire Se io primo Rallanogico In indietro Mi cambia l'arma Non so perché WTF Comunque Cerchiamo di Avantaggiarci E mettere Qua La nostra Claymore Adesso Adesso Doviamo Aspettare I Nostri Amici Possiamo Anche Metterci Qua E Camperare E Qua Sparare Qua ragazzi Ho fatto la mia Prima Moab In questa Mappa Qua Proprio Nella modalità Infetto Perché è Molto semplice E Easy Tanto Ho potuto Vedere Che tantissime Persone Sono Con il prestigio 80 20 Volevo dire Grazie A questi Server Qua Americani Che sono Riattivi Dopo la Due mesi O una Vale In genere Tanto Qua Se ne Stanno Andando Ragazzi Non Andate Nella Qua Che Sennò Si Muore Perché Ragazzi Questo Gioco Qua E Facile Se Ci Gioca In Pochi Se E più Difficile Sopravvivere What Is Happening Aiuto No Ragazzi Non Andare Qua E Una Zona Molto Rischiosa E Non Voglio Rischiare Ci Stanno Un Casino Di Claymore Aiuto Ci Incurano La Qua Ragazzi Ci Incurano La Qua Quindi Cerchiamo Di Metterci Qua Camperare Un 3 Secondi Però Dovete Sempre Muovervi Ragazzi Perché Se Non Vi Muovete Vi In Culo In Maniera Sadica Cerchiamo Di Guardarci Intorno Senza Che Ci Stuprino Ok Attento Dietro Attento Dietro Attento Sta Mettendo Di Filtrazione Deficienta Ok L'hanno Ucciso Corri 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 Ok Ok Corri Bravo Bravo Bambino Tanto 69 Munizioni Sono spravvissuto Grande Occhio Ok ragazzi Stanno cominciando a essere un pochino più infetti Quindi cominciano ad arrivare le horde di infetti a farvi del male Intanto spero che non mi beccano subito E di arrivare almeno nei primi 4 Corri su Boom Bitch Cosa pensavo di fare Ok Ragazzi Corri giù Corri giù Non fare l'hacab E rallentare Quando Sto facendo Io il percorso Intanto qua What the fuck Sono persone che si lanciano Ragazzi Cos'è qua Oddio Ok Eccolo là Ok Corri Chiariamo su Andiamo un pochino all'impazzata Senza morire Proprio in maniera infantile Arrivano là dietro Arrivano là dietro Ragazzi Perché mi sbagga Si bagga il joystick Ragazzi Boom No Non mi puoi far laggare Boom Armi 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 Corri Corri Ok ragazzi Stiamo Cominciando a perdere vite Boom Boom Ricarica Ricarica Boom Bitch Lo rischiate questa ragazzi Questa qua L'ho veramente cannata quasi Corri Guardiamo di qua Torniamo indietro Quelli si stanno tipo suicidando E quegli altri Stanno facendo Mamma mia No Non fate così Non fate così ragazzi Non fate così Corri Torna indietro Vai così Mamma mia Quanto dà ansia questo gioco Corri Prendi le munizioni No 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 ragazzi Mi hanno fregato Non dovevo fare questa cosa qua E vabbè Comunque Adesso siamo noi Quelli che dobbiamo fare I pazzi maniaci Che arrivano Ok Mettiamo l'infettazione tattica Si si gira Si mira Via Corri No Cos'era Una Claymore Ancora Sono ancora vive le Claymore Non lagare Non lagare Non lagare Non lagare Non lagare Zio Non lagare Andiamo 36 secondi Per uccidere Tutti questi esseri Uno Almeno uno Uno Almeno uno No Ragazzi No It's really impossible Come dire Però così qua Campro veramente Troppo Campro No Dai Uno Fammene uccidere Non vi chiedo molto Vi chiedo Un cacchio Di Kill Ecco Ecco Detto No Non ho fatto anche la mo Ah Sfigato Non lagare La mo Bitch 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 Va bene ragazzi Comunque Detto questo Vi chiedo di mettere un piccolo mi piace Un piccolo commento Di iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti Andate a vedere il mio precedente video Per avere uno spawn in più Da qui è tutto DJ Slash A un prossimo video Bella ragazzi Ciao